50, destra 2 5, 4, 3, 2, 1 andiamo 50, destra 2 in sinistra 2 in Cicane entra a sinistra accenno destro chiude, 1 e inversione sinistra in 2 tempi attorno alla palla in sinistra 3 in destra 1 in 2 tempi gira sul salto destra 2, apre 5 50, inversione sinistra attorno al palo inversione destra attorno al palo 50 tornante sinistro 70 attraverso tunnel stai a sinistra inversione sinistra 120 molla Dossone stacca destra 2 apre 6 50 destra 1 in 2 tempi e sinistra 4 Dossone e attento sinistra 1 apre 5 sul salto per tornante sinistro per tornante sinistro gira 50 sul salto stacca tornante destro attraverso il cancello 150 50 inversione destra attorno alla palla 40 stai a destra sinistra 3 su guado 50 sinistra 2 attraverso il cancello per indosso sul salto curva 90 destra attorno alla palla stai a sinistra al traguardo Grazie.